Noi che rimaniamo invece Noi che rimaniamo invece Andiamo ad analizzare il mio Spotify Perché raga io veramente ho di tutto nelle mie playlist Cioè secondo me gioia non se la vive bene questa cosa Secondo me gioia non se la vive bene questa cosa Comunque se veramente è un muro educato Hai un ospite in live e 407 persone ti seguono E tu sei sul telefono a farti gli affari tuoi Matteo tu talk Ciao comunque Piacere Vabbè Bella raga è una mia copypasta Ah ok va bene grazie Comprensibile comprensibile Grazie per averlo specificato No tata non me la vive bene Gli ultimi script tutti io li ho fatti No merca No merca Vabbè no dico che gioia se la vivrà male Perché guardate ora vi faccio vedere Perché vi divertite Cioè io raga ho tutto Allora partiamo dalla mia playlist 2022 Ma la caldaia è tutta hoc Perché la caldaia è tutta hoc? C'ho fatto con la caldaia mo? Oddio cos'è questo meme? Cos'è questo meme della caldaia? Mi sono persa qualcosa? Anche questo lascia stare Eh vabbè ragazzi però me li dovete spiegare Io sono solo in Nella lore del Joe e Banda Quindi a me non mi potete fare quella roba Che quando chiedo l'aiuto della chat Mettete tutti quella cazzo di canzone di merda Perché io lo so Quindi già vi avverto in principio Non spammate quella cazzo di cosa Di canzone Panorama bar esatto Non spammate Panorama bar Perché già vi dico che vi ciocco in due secondi Quindi non ci provate manco Perché non so bene da dove è partita questa cosa Propriamente in tutti gli episodi di Joe e Banda Che ho visto Ah giusto la categoria In tutte le live di Joe e Banda Che ho visto Puoi chiedere l'aiuto della chat E la chat fanno gli stronzi E fanno Panorama bar E scrivono tutti in massa Panorama bar E mi ricordo che nella live di Joe e Banda Dove c'era anche Poldo Minchia raga ma che cazzo di fan sono Minchia le sono tutte Nella live di Joe e Banda con Poldo Poldo dice effettivamente Panorama bar Per una canzone Dopo essere stato consigliato male Dalla chat E faremo Raising Floor Va bene Me li segno eh Me li segno tutti Datemi tutte le opzioni E anche questo è un mio meme Ma da dove nasce? Ma Panorama bar è effettivamente una canzone? Ah Ok 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 Dark Pyrex E mancava No comunque io volevo dire che Appunto Joe se la vivrà malissimo Perché io ascolto ogni cosa Tipo questa è la mia playlist Che metto sempre in live Che è con tutta la Boh non so Che genere Definibile questo Tipo rap R&B Totta se ti regalassero 550 euro Come li spenderesti? Allora Come li spenderei? No la seconda cam non ce l'ho Quindi forse con la seconda cam No l'avevo detto oggi in live Che vorrei prendermi il VR Per fare delle live in VR Che secondo me potrebbero essere carine Quindi forse con il VR Però forse anche questo è un vostro meme interno Io vi ho risposto seriamente Quindi vi chiedo scusa se non sono così figa Quanto i vostri meme Eventualmente Se no la mia risposta seria è quella Sappiatelo ecco Mi sembra tutto un mix tra pop Rap e vari Sì boh Rap e R&B Non so come lo definite E questa è la mia playlist 2022 Poi questa è la mia playlist Feeling Good As Hell Che sono solo le canzoni Che mi metto tipo Quando mi faccio la doccia Per gasarmi Che mi fanno sentire figa Cioè letteralmente Questo è Quello che mi indica questa playlist Poi questa è Questa è la mia playlist Pre discoteca precisamente Con Volete fare la bet della doccia pure da me? Per vedere se mi sono fatta la doccia o meno oggi? Oh mod Se lo volete fare io me la collo eh Io me la collo vedete? Indovinate se ho fatto la doccia o meno Però Dai dai vai Copio gioia Copio gioia con la bet della doccia vai Qualche mod può fare sta bet Se me sono lavata oggi o meno? Però cosa vi devo dire? Cosa vi devo dire? La mia giornata Cioè come Come fa? Come funziona con gioia? La mia giornata Allora zoom sulla faccia Ok va bene Allora mi metto schermo intero Zoom della mia faccia Del mio volto Ok Ok Ultima doccia Aspetta ma ultima doccia si intende tipo doccia completa anche con i capelli o doccia solo corpo? Perché per me è diverso Questa cosa mi sa che non ce l'avete con Gioe Però per me è diverso? Però per me è diverso Doccia completa o solo corpo? Anche solo corpo va bene Allora solo corpo L'altro ieri L'altro ieri Aspetta non mi ricordo aspetta Non mi ricordo perché ora è passata la mezzanotte Vi dico il giorno preciso Ok Ma è l'altro ieri Martedì 9 Martedì 9 Martedì 9 Oggi che ho fatto? Allora stamattina Mi sono svegliata Ho fatto colazione solita Ho lavorato Ho fatto due call Una alle 10 Allora mi sono svegliata Per le 9 e mezza Ho fatto una call alle 10 Ne ho fatta Un'altra Alle 11 e 45 Che è durata fino All'una L'una e mezza circa Poi ho pranzato Alle 4 Sono andata dalla psicologa Però poi la psicologa Ha fatto un errore Quindi ho dovuto spostare L'appuntamento a domani Quindi alle 5 tipo sono andata a fare la spesa Tornando dalla psicologa E poi sono Tornata a casa tipo per Le 6 Ho cenato E Alle 7 Ho iniziato la live Questo è quello che ho fatto Vedete voi Giovani Vedete voi Vedete voi ragazzi A vostra scelta Bet chiuse Sono chiuse le bet Ufficialmente? Posso dirlo? Sì ragazzi Mi sono fatta la doccia Mi sono fatta la doccia Stamattina Mi sono fatta la doccia Stamattina Tra la colla E il pranzo Ah no scusatemi Tra il pranzo E la psicologa E sono uscita Proprio Finita di asciugarmi i capelli E sono andata Alla psicologa Ancora con i capelli umidi Quindi cosa avevate bettato? Ah voi 58% Sì 48% No Complimenti No 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 Doccia completa Pure i capelli ho lavato Pure i capelli ho lavato Ragazzi Pure i capelli Complimenti a chi ha vinto Ragazzi 380 punti buttati Non sono buttati L'importante è averne abbastanza Per la prossima giocata Ricordati Non è importante Quanti soldi spendi Spendi Ma quanti ne puoi vincere È quella sempre Ovviamente ti sei fatta la doccia Prima di uscire Ma no Non ovviamente Ma è buono Io non mi faccio la doccia ogni giorno Anzi Anzi Io i capelli Me li lavo Due volte a settimana Anzi Vi darò questa informazione Semmai dovesse essere utile Per il futuro Io i capelli li lavo Due volte a settimana E basta Quindi Questa è un'altra informazione Tenetevela utile Per le prossime volte E Se mai dovessi rifare questa cosa E Dicendo Del mio simpatico Spotify Dopo che l'ultimo C'era due giorni fa Ovvio te la facevi prima di uscire Oggi Vabbè me la collo Ciao Gio Un bacione Ricordati che puoi perdere Solo il 100% Di quello che punti Ma puoi vincere Infine di soldi Grande Matteo Minchia l'altro giorno Raga Mi sto vedendo Mi sto vedendo Tiktok Non so se vi posso Non posso più farvi vedere Lo Spotify Rapt O vi posso farvi vedere Sulla playlist Mi sa Ora vediamo E qualche giorno fa Mi sono vista Stavo scrollando su tiktok Mi esce questo video Tipo Lunghissimo Di questo Che dice Come giocare D'azzardo Gli abbia rovinato la vita E come è arrivato A smettere di giocare D'azzardo Minchia raga I commenti sotto I commenti sotto Erano solo Ed esclusivamente Tipo Ma come Ma eri così vicino Alla prossima vincita Eri Grazie mille Cri per la sabba Eri vicinissima Alla vincita suprema E la gente Che gli scrive Tipo Guarda che l'unico giocatore Che perde È quello che smette Di giocare Minchia raga Che ridere Porca troia Vi giuro Non c'era un singolo Commento di supporto E questo era tipo Un vlog di 8 minuti Solo 30 sabba La maratona Godopolio Esatto Il 99% dei giocatori Si fermano Prima della grande vincita Comunque Qualcuno mi ha mandato Il link Di Spotify Wrapped Me lo può rimandare Perché l'ho assolutamente Ah no eccolo Ah ok Ve lo posso far vedere Bene bomba Lo faccio vedere E' wrapped ragazzi Anzi ve lo faccio vedere così Che è più caruccio Ok Spotify Wrapped Aspetta aspetta Parti dall'inizio Che voglio un attimo In grandio schermino Qua così lo vedete bene Hello totta Hello Spotify Vabbè si cazzo Lo teniamo così Ok Ho fatto sabba Come regalo di compleanno Del tuo Grazie Allora Ok Ora già mi fa vedere qualcosa Aspetta Ma ci vogliamo sentire La musichetta Proprio di Spotify Color up Ah Minchia Fortissima questa musica Cazzo Ok I miei top generi Mi fa vedere i miei top generi Cazzo Mi devi dare il tempo Però porca trota Ora mi Yes Dai 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 Fammi Dammi delle gioie Per favore Però vorrei poter mettere pausa Ah ma qua sta il tasto del pausa Scusate mi sono stupida Fucking stupid Dai vai Dammi sto panino Dai Credo in te Spotify Ya vuoi fa Ok I miei top generi Pop Pop italiano Pov Due puntindi Che non so cosa cazzo sia Classico Italian pop E poi Lo fa i VGM Che appunto Come ci dice Gabriele Lo fa i video games music Perché è la cazzo di musica Che mettevo Quando facevo live con gli amichetti Che mi ha smerdato tutto il rap Perché la mettevo per tutte le robe Però vabbè Davvero Eh penso proprio di sì comunque Penso proprio di sì Perché non mi sconvolgerebbe Visto la musica che mettevo in live Con gli amichetti Per l'appunto Quindi Niente di nuovo Ho riprodotto 4757 canzoni Nel 2023 Che potrebbe essere poco O tanto La mia top canzone You're on your own kid Perché sono fortunatamente depressa Che ho ascoltato 105 Volte Partire dal primo gennaio Quindi L'ho iniziata a spingere subito Questo rap Del Del 2023 Veramente Eh fino a fine anno Sì Ci ho creduto tanto Però ho avuto spazio nel mio cuore Per più di un preferito E E E Vabbè E Allora potrei essere effettivamente Un pochino Come dire Ripetitiva Però appunto Primo posto You're on your own kid Secondo posto It's different Di Taylor Swift Poi abbiamo Kill Bill Di Za Vampire Di Olivia Rodrigo E I Can See You Di Taylor Swift Questa vita mia Che vedevo di Che vedevo di Ognuno c'ha le sue Però il bello è che Si legge Sisa Sisa Time Il tempo È un costrutto sociale Però ho ascoltato Per 52 657 Minuti E non ho mai capito Se è tanto o poco Perché ho visto gente Che c'è tipo 100.000 minuti E non so come cazzo Sia possibile Voi quanti Quanti minuti Vi sono usciti Eh infatti Ecco Gabri 270k 149k Capito Quando leggo Ste cose Dico vabbè Allora ho ascoltato Un cazzo Però poi ho letto Gente che si ascolta Tipo 12.000 minuti Quindi dico Vabbè Forse sono tanti Non lo so Io 40k 144k 45k 20k Ecco tipo Rispetto a Dato Melty Ne ho un botto Capito Io 180 non k Non ci credo Gerbi Non ci posso credere Che tu hai ascoltato Sì poca musica Sono giusti 52k È una cosa valida È una cosa valida Sono felice di ciò Non ho fomo Di non aver fatto abbastanza Sono felice Sono 36 giorni Non stop di musica Ok Il 20 aprile Ho fatto 1171 minuti Che ho passato io Il Il 20 aprile Mi scusassi Che ho passato io Fammi apri il calendar Che ho passato io Il 20 aprile Luglio Giugno Maggio Aprile 20 aprile Era un giovedì Ho avuto una maratona Ah Forse per questo Per questo Effettivamente Perché ho avuto La maratona Di 12 ore E quindi 12 ore di Di lavetta Effettivamente ci sta Non mi sconvolgerei Potrebbe essere valido Erano nel top 4% Degli ascoltatori mondiali Però non so se in quel giorno In generale Sinceramente Ho ascoltato quasi 2000 artisti Ma solo uno È il numero uno Potete indovinare Mi madre Mi madre Taylor Swift Sono nell'1% Dei fan Con quasi 8000 minuti Cazzo Mi mancava poco Però mi mancava poco Per fare sti 8k Vabbè ok Questa canzone L'ho ascoltata Fino alla morte L'abbiamo capito Fino a qua Gli stiamo Ho avuto qualcosa Speciale con il mio Top artist Sicuramente Non Niente Ok Eccolo Il secondo posto Livestream Questo è quando Ho iniziato a utilizzarle Per le live Ecco Questo è il momento In cui mi hanno smerdato Il coso Frank Ocean Frank Ocean a me Mi piace un botto Raga Io amo Frank Ocean Assolutamente sottovalutato In Italia almeno Olivia Rodrigo Ha avuto i suoi momenti Di gloria Qua era uscito L'album nuovo Se non sbaglio Quindi Valido Che vi posso dire Se non valido Kanye West pure Ecco raga Questa cosa mi fa Troppo rite Penso l'unica persona Che ha Nel rap Sia Kanye West Che Taylor Swift Però Kanye West Persona di merda Grande stronzo Però raga A livello di musica Che te devo dire È fortissimo Sì È veramente forte E quindi me lo sono portata Dietro nel mio rap E sono felice E fiera di ciò I miei top artist Infatti Come vi dicevo prima Cioè Ho il live stream Al secondo posto Per questo mi ha smerdato Dovrei sapere Chi è al sesto posto Così da farlo scalare Praticamente Almeno non ascolti Rondo e Shiva No Generalmente no Oh bello Bello Peppo Vedo dei prime Non so se le avete usate da Gioe In caso Eccomi All'Eras ci vai Sì Tutti e due giorni a Milano Ragazzi Tutti e due giorni a Milano Scusate Ma se vedo un prime lì Vi devo per forza Per forza chiedere Di donarmelo È tipo nella legge Non scritta Però se lo usate da Gioe Ovviamente sia mai L'ultima cosa che vorrei Assolutamente Oh oh Ciao Taylor Mi madre Non me ne fotto un cazzo Ho già sentito Eh Meno 30 alla maratona Ah Ho ascoltato pure 4000 minuti di podcast Al primo posto Mi madre Emma Chamberlain Allora Mi madre Emma Chamberlain Perché vabbè Io amo Emma Chamberlain Fine Non voglio più dire Emma Chamberlain Per il resto della mia vita One more time Di Luca Casadei Perché spacca Luca Casadei Bravo La città dei vivi In realtà questa È un podcast Che ascolti una volta E basta Perché ti racconta Solo la storia E finisce Mitologia Le miravigliose storie Del mondo antico Raga io me lo ascolto Per andare a dormire Bellissimo Che mi racconta Io sono Cioè a me piace un sacco La mitologia Bellissima Penso sia fighissima E quindi Prima di andare a dormire Non so Mi concilia proprio il sonno Che vi devo dire Che vi devo dire Top 4% dei fan Top 4% dei fan E che dire One moment please Ciao A domani 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 Sì That's better Cosa That's better Sono un hero Un anti-hero Per caso Forse mi fa Eccola La battutona Me la sono Dai Ho riso Dai Fai simpatica Simpatica Come cosa Almeno dai Tap to reveal Che devo revealare Ah Che son con un vampir Ah Ascolto musica Emozionante D'atmosfera Va bene L'ho accetto L'ho accetto Il vampirozzo Però non ho un canino È stato divertente Yes Same time next year A voi Se beccamo Ok Comunque No vi voglio Continuare a raccontare Le mie playlist Quindi ve le voglio Raccontare tutte Buonanotte a chi va Ragazzi Un bacione A chi resta Questa è Balla La playlist che mi metto In macchina Che mi casa Con tutte le canzoni Quelle storiche Tipo Cioè Questo livello Di storico Raga In macchina Mi casano Come poche cose Al mondo Poi abbiamo Classici Ragazzi Classici Canta Autorato italiano Che a me mi piace In botto Questo è tutto Canta Autorato italiano Questa playlist Ce l'ho da quando? Dal 2018 Raga Dal 2018 Che l'ascolto sempre E Sì Tra l'altro Sono sempre le stesse canzoni Ci hanno aggiunto Tipo due Quest'anno E Questo dice molto Ciao Manu Buonanotte E Poi questo Tutto quello Che mi piace ora Tutto quello Che mi piaceva Ad agosto 2023 È un mix Di robe Praticamente Serena Gomez Adel Con Grey Taylor Swift Marrakesh Dua Lipa Sisa Scusate Dico Za Billy Alice The Week Che non c'è Mi raccollo E San Callisto San Callisto Nasce Inizialmente Come rap Trap Romana Quindi Psicologi 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 Soroland Tauro Boys Raga Tauro Boys Tauro Baby Mami no Cosa Cosa Vedi Ketama Pippo Solo Vabbè Pippo Solo Io amo Pippo Solo Gianni Bismarck Insomma Tutta 126 Garage Gang Eccetera E poi piano piano Si è iniziato ad aggiungere più Tutti i fenomeni Vabbè storico Si è iniziato ad aggiungere più Più Robba Già Quacchiello Tananai Eccetera Perché poi ho preso tutte le canzoni Che hanno lo stesso mood E le ho piazzate qua Qua in mezzo Capito Tauro Boys Viste al Fuck Your Party Io taro Boys Viste ad un in-store Da Abu Lab E ho anche una sacca Firmata da loro Che ho scritto Baby ho il cuore fatto a pezzi Tipo Non mi ricordo Cazzo quella frase Poi questa è la playlist Che non so come andremo a definire Una sorta di alternative pop Alternative pop Abbiamo gli Arctic Monkeys I The Vaccines The Cooks 1975 I Killers The Neighborhood Insomma The Strokes Tutta sta gente qua Red Hot Chili Peppers Loro Non so come altro definirli The Smiths L'unica è questa in realtà Poi abbiamo Stoney Questa è una playlist Inizialmente partita Come dedicata solo a Post Malone E poi si sono aggiunti Un botto di altri artisti Che mi danno le stesse vibes Di Post Malone Che comunque continua ad essere La categoria principale Ciao Andrea Un bacione Ci becchiamo domani Ah domani tra l'altro ragazzi Io sono in live Dalle 19 alle 21 comunque Poi dalle 21 Andiamo da Gioe Preggio e Bande E io stacco la live Però prima Noi Pupi siamo in live Dico prima che i miei vadano via Così potete passare E Poi mood Queste sono solo le canzoni Appunto Sono mezza storiche dai Cioè sono solo canzoni storiche Famosissime Che tutti Cioè io ti metto Shuffle a questa playlist E la conosci la canzone Capito? Cioè questa è la vibe Tutte canzoni che Conosci Punto Ciao Cristo A domani E questo è dicembre 2020 Vabbè le canzoni che mi ascoltavo A dicembre 2020 Niente da dire al riguardo Questa è la playlist Con le mie canzoni preferite Di Eminem Perché mi piace un botto Eminem Questa è la canzone Che mi Questa è la playlist Che mi dà vibes Anni 2000 Quindi abbiamo Yabba Abbiamo High School Musical Abbiamo Non per forza Anni 2000 È proprio quella musica dance Storica Anche anni 2000 Per me Squatter Questa probabilmente Non la conoscete nessuno di voi Però vabbè Sono ipopixel L'officina della Camomilla Per i denti cani È una di Calcutta Ehm Basta Ringraziami Davo Questa è una categoria molto specifica Allora Le canzoni che sicuramente conosci O conosci il ritornello Però non sai il nome Sono proprio loro Sono proprio loro E quindi tipo Ad esempio Vi metto shuffle di qua Di uno al volo Tutu Ok Questa è la vibe Della playlist Poi abbiamo 2021 2021 Abbiamo Cioè Dish Gambino Cuckoo Dolls Girl in Red Videoclub Clero Arctic Monkeys Radiohead Joy Division Paramore Insomma Sta gente qui Questa canzone è pazzesca In Your Room di Ariel Bellissima Tra l'altro Questa cantante Questi cantanti Non molto ascoltati Ma In Your Room Raga è pazzesca Questa canzone Ve la consiglio tanto Se vi piace il genere alternativo Poi trap Sono canzoni trap Ma sono le canzoni trap Ferme a tanto tempo fa Cioè Ho aggiunto Paradise Lost Nel 2022 Perché se no Sono ferme al 2019 Per farvi capire Trap sia italiana Che americana Insomma Vediamo che parte Eh sì Insomma Queste vibes No 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 Punto Scatio Wishlist Poi abbiamo parole Allora Queste Vabbè Trap Still Dre È una base La puoi fare pure trap Se ti pare Queste parole Queste sono È una sottocategoria Del genere Cantautorato italiano Classice appunto È sottocategoria Però perché Questi sono proprio Quelli nello specifico Che hanno il testo migliore Infatti Sono Lucio Dalla Perché io amo Lucio Dalla Chill Queste sono le canzoni Chill Ragazzi c'è Ok Queste vibes Poi abbiamo Coming of age Queste sono proprio Le canzoni Che parlano Del coming of age Del crescere E non sapere Cosa fare Nella vita Questa è È la playlist Per quando mi sento Che non sto facendo Nulla nella vita Mi ascolto questa playlist E Poi Into the wild Questo è passenger Prevalentemente Però sono tutte Quelle canzoni Poi indica La chitarrina No Questa è la vibe Basta Poi In other life Minchia Queste non solo Fanno piangere Come le stronze Queste fanno solo Piangere tanto Queste canzoni Musica figa Questa è quando Per un esperimento Ho dato la possibilità Di fare una playlist Condivisa E tutti Voi avete aggiunto Canzoni E siamo arrivati A 10.000 brani E vedi Tutte le persone Cosa hanno aggiunto Fatta l'anno scorso Questo No Due anni fa Tre anni fa Minchia Tre anni fa L'ho fatta questa cosa Wow E c'è letteralmente Di tutto ragazzi C'è di tutto Ogni cosa Che potete immaginare C'è qua dentro Praticamente E Poi queste altre In realtà Non sono mie Praticamente Questa è una playlist Con canzoni Che mi piacciono C'è il Glicast Non mi giudicate Per favore Non vi ho più Sua darrabilissima La canzone Butterfly Questa è Di una persona Che mi segue Però aveva Delle belle canzoni Quindi gliel'ho rubata Questa è Il mio periodo Delle medie Poi l'ho dedicata Ad una mia amica Questa canzone Perché diceva Di essere punk E quindi Gli ho dato Questa playlist Paramore Made a parade Panic at the disco Fallout boy Blink Nirvana All time low My chemical romance Insomma Queste vibes Questi erano I miei anni Delle medie Praticamente Medie Inizio liceo Archivio Questo è Le canzoni indie Prima che l'indie Diventasse commerciale Le canzoni indie Prima che l'indie Diventasse commerciale Quindi sono tutte Quelle inizie di tutti E poi io In quel periodo Ero strapresa bene Volevo andare a sentire Tutti gli artisti nuovi Li volevo scovare Eccetera E quindi ci sono Ci sono sacchi di gente Che non conoscono Cazzo di nessuno Probabilmente manco Fanno più musica Canzoni alla rabbia Queste sono Canzoni italiane Che sono incazzate nere E basta E mi gasano Perché sono solo incazzate Tanto l'indrigo Questi qui Io ero giunti nel 2019 L'anno scorso Sono andati a X Factor E io ho detto Minchia ma io questi Li conosco Cioè li ho nella prista Nel 2019 Mi ha fatto ridere Non l'hanno vinto comunque Bella il bro di Napoli Ora lo sai Seguimi Usa la sub Fai la sub Manca pochissimo La maratona di 36 ore Minchia raga 30 sub Fighissimo Acquarape Ah no aspetta Britpop E Vabbè Britpop C'è poco da dire Acquare aperto Queste sono tutte le canzoni Cioè Avete presente no Quando dite una canzone Cioè sono Siete proprio voi Mi rappresenta Eccetera Questa è la playlist Con tutte le canzoni Che mi fanno dire Mi rappresentano Cioè io penso che Se tu ascolti Tutta questa playlist Capisci molte cose di me Come persona Ok E sono tutte racchiuse All'interno di Di questa playlist Paul di Big Tiff Bellissima Questa canzone E quindi sì Queste sono le Le vibes Della playlist Poi Old Glories Basta Questa è solo Cioè Se io fossi DJ Metterei queste canzoni Ok Queste Queste le vibes Oh Vi analizza tutte le Invece Cazzo impegnativo Eh Buonanotte Totta Oh Alex Primo messaggio Nella chat E mi dà la buonanotte Un bacione Ci vediamo domani Ci vediamo domani Pupi Oh raga Gente che è rimasta in vita Scrivete un po' Ve voglio sentire Cazzo siete 130 Tra un po' E non vi leggo Dai 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 Scrivete in chat Voglio Voglio un po' di Voglio sapere Che ci siete Voglio un po' di gioia Oh Eccovi Grazie Grazie Ciao carissimi Ciao puponi Ciao puponi Che devo scrivere Ma non lo so Ditemi qualcosa Parlatemi Che Sto impazzendo per i tuoi gusti Sappilo Perché sono troppi O perché sono belli Ci siamo tottona Ecco grazie ragazzi E no Comunque tutto questo Perché Per dire che Io veramente ascolto Un botto di roba Probabilmente Allora Vi dico la cosa Su cui sarò più in difficoltà La prima volta che ti vedo E mi sa che ti fotto Tutte le playlist È bella Grazie Io posso fotterti Quel prime Perché mi sembrerebbe Uno scambio eco Comunque Oh grazie Fortu Per il raidino Bacioni Bacioni Sì mi sembra Mi sembra necessario Comunque Mi sembra uno scambio eco Tu mi rubi le playlist Io Ti rubo 3,99 euro O gratis Se hai il prime Perché con prime La sub è gratis Ero curiosa Se ti fossi mai fatto La tinta ai capelli No Mai Questo è il mio colore naturale Dei capelli Ciao Fortu Andate ad asseguire Il mio pupo Fatto il raid Da live finita Lol Ci ho provato Vabbè ho accettato Fortu Stasera non è la serata Dei raid Pure per Bertra E no Volevo dirvi Allora Quali sono le categorie Con cui io avrò più difficoltà Domani Eh Alex Non lo so Dai se mi fai la sub Puoi andare via Ti concedo questa cosa Te lo concedo Ehm Purtroppo Per fortuna Il premio L'ho già dato a Bertra Wow Va bene Ok Magari Tanto non ricevi tutti Quei 3,99 Minchia Mi arriva tipo Un euro 80 Forse Forse Sottolineo forse Quindi ti attenta Su Metal Rock Alternative Vanno i 2000 Eh vero Alita Alita è forte Su un po' di roba Trox89 No non mi dite Su cosa è forte Alita Però basta Non voglio essere Grazie Trox89 Per la sub Comunque Grazie mille Ancora una sub in meno Alla maratona di 36 ore 29 sub Ragazzi 29 sub Anzietta Anzietta Vi ricordo che con pochi Bitti potete far partire Gli alert Sì giusto Giusto grazie E allora Vi dico le cose su cui Non sarò forte io Allora Trap recente Non penso di essere forte Le canzoni Dei tiktok Perché raga La mia for you page È rotta di tiktok Cioè vi giuro Proprio È zero Bella Axela Prima volta che fai la sub Da me Per caso Potremmo fare due prime volte In una magari Funk Sicuro ti fanno cagare Difficile che qualcosa Mi faccia cagare Funk Sentiamo un po' di funk Tipo randomico No allora Non mi fa cagare Perché ormai Sono stata abitata O Berta Tutte le volte Sono stata in macchina Con lui Non può oggettivamente Mai farmi cagare Per forza Prima messaggio Nella chat Ma video vi sia antissimi Quindi ti fai la sub O no No ma in realtà Di musica è difficile Che qualcosa proprio Non mi piaccia Però ecco del funk Se mi chiedi un titolo Non lo so Cioè non te lo conosco Non te lo so dire Anzi guarda Fammi aprire al volo Un bel video Del Joy Banda Questo cubo È stato comprato Un Joy Banda a caso Voglio solo vedere Le categorie In inglese No No Minchia Beh Loro L'ho fatto I sui cartoni Ecco Cartoni animati Raga E io una pippa Tacioco Cash e Merisiel Che forse loro Hanno i gusti Più simili ai miei Quindi Le loro categorie Potrebbero essere Quelle che mi escono domani Minchia Raga Anime Anime Zero Proprio Grandi poppe Non comprendo che categoria Sia Grandi poppe Reverse Vabbè Reverse di solito sono facili Le canzoni del reverse TikTok Me Billions Vabbè Billions Cazzo Sono famosissimi Quindi in teoria le dovrei conoscere Trapprappita Una pippa Cantautorate Invece Forte Quindi sì Di questa Ad esempio Quelle su cui avrò più difficoltà Sono anime Trapprappita Più difficili di tutte Subbio dopo Film e TikTok Escludo Grandi poppe Perché Non so che cazzo Cazzo di categoria Grandi poppe Ti prego Cioè voglio vedere un attimo Quando Ecco Grandi poppe Per fortuna è la prima che scelgono Perché voglio proprio sentire Che canzoni a Grandi poppe Sono curiosa Con la primissima Un'altra roba All'interno Dei 5-6 secondi Di canzoni Che ascolterete voi Non c'è mai titolo della canzone C'è mai E io ragazzi sono fan Ormai sono tutte In questo caso Qua mi devi dire il titolo L'artista l'hai riconosciuta? È Anna Grande produzione di latte Ma non so assolutamente La canzone Fidati di nessuno Ma appena ha detto Che non c'è il titolo Che cazzo lo so Non lo so Ma figurati Era Gasolina Quella è questa canzone In realtà Una delle canzoni più forti Della storia del rap italiano Ci tenevo a dirlo E andiamo con la prossima canzone Cambiamo lingua Vabbè questa è Beyoncé Ma Voglio la chat Ragazzi Tocca a voi Che gli dite panorama bar Non so se c'è ancora Qualsione Ecco è panorama bar Vedi cioccati Ho letto un Merizel Ti amo Questo cazzo di panorama bar A me non me lo potrebbe fare A Elisa forse è ancora sì Beyond you Verrà anche rostata mi sa Perché verrò rostata? Per cosa? Per cosa verrò rostata? Comunque sì Grandi Popper Affettivamente autoesplicativo Sono cantanti solo Che hanno delle grandi tette E comprensibile Comunque mi dai Vibes di Blurda Femmina Oddio Particolari vibes Se devo essere onesta Però me la collo Ehi te No scusa Sono curiosa di sapere Perché verrò anche rostata Poi direi che stacchiamo Comunque si è fatta certo Minchia Sei ore di live Oppure ho rotto il cazzo Perché non sai Le famose della trap Allora Devo essere onesta Che tre quarti Delle persone Che ascoltano la trap Seriamente Non hanno Proprio il top Della mia stima Quindi Essere rostata loro Non mi interessa No Passate con me No raga Ma chi vi si incura Io sto cercando tra l'altro Di prendere degli orari decenti Quindi No domani alle nove Mi devo svegliare Cazzo O domani alle nove Se Domani metto una storia Appena mi sveglio Se alle nove Zero uno Non c'è una storia Mi dovete distruggere I DM Porca troia Perché non esiste Cazzo Mi sono abituata ormai A Roma Che andavo A dormire Alle quattro di notte Alle cinque di notte Mattina ormai E mi svegliavo A luna di pomeriggio Però ero in vacanza E quindi me l'accollo Mo non sono più in vacanza Cazzo Ora devo lavorare Devo fare le cose Non posso stare sveglia Più tardi delle nove Cioè alle nove massimo Devo essere sveglia Capito E quindi niente Questo Questa è la situa Questa è la Truth Reality Na 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 Come on Ecco Sai anche cosa sarebbe carino Che introducesse Il carissimo Joe La possibilità Cioè tipo un mini game Dove ti mette play in una canzone Ok Che ne so Ad esempio Hai la categoria Bonus o malus No la categoria malus Dove oltre ad indovinare la canzone Devi indovinare Anche le parole dopo Quindi ad esempio Se si stoppa Ad un certo punto Devi continuare Le parole dopo E se le azzecchi pure Le parole dopo Ti da dei punti aggiuntivi Sarebbe carino eh Aggiungere anche il testo Secondo me sarebbe caruccia Come cosa E ciao Ancora non sono cosciente Alle nove Vabbè me la collo Ci sta Eh sta previsto Spinge raga Tra l'altro Ah ecco Sai cosa mi devo ascoltare Stasera L'ultimo album di gem Potrebbe essere Potrebbe essere Una cosa Che Che mette Allora QVC10 Mi sono ascoltata Quella là con Allora La merce più buona Ballon Ballon d'or Con Knight Pazzesca La ballata del dubbio È beh storica È colpevole Queste le conosco Le altre ancora Non le ho neanche sentite Eh Knight Ha spaccato tantissimo Ma for me la mette No Knight Ha spaccato assoluto In questa canzone Infatti l'altro giorno Mi è uscito su Su Youtube Il Il video Ballon d'or Però è solo La parte di Knight Tra l'altro raga Guardate che cosa Vi faccio vedere Se vi vado su Instagram Da Instagram Da PC vi posso far vedere Il mio archivio Per caso Posso? No Non posso far vedere Il mio archivio No Non me lo fa aprire Però se vado su Instagram Vi posso far vedere Quanto sono una true fan Di Jamie Tights Archivio Ecco Da telefono Lo posso raccattare Eh dovrei andare Molto in giù Però Ve lo posso visionare Ve lo posso far visionare Aspettate Che lo sto raccattando Lo sto ripescando Vediamo Dov'è? O forse non l'ho messo Oddio mi sto stendo l'ansia Che Eccolo Eh? 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 Che ne pensate Giovini? Sono fiera di questa cosa Quindi ci tengo a specificarla Fra dieci anni fa Greve? Grevissimo? Beh ero così dieci anni fa Se vi interessa Eh sono io raga Sono questa qui ovviamente Vediamo se trovo Una foto mia Dove si vede bene Ovviamente non mi piace Tante foto Dove mi si vedeva Aspetta Mentre toglierò Gli occhiali Ma poi non ho foto mia Ma perché non mi facevo foto? Vabbè non è che oramai ne faccia tantissime Questo è stato il mio primo raduno Regà Nel 2016 Con Fede Marconi Nessuno di questi fa ancora YouTube Praticamente Tranne Fede Marconi Ma in che senso Ma è mia cugina? Chi è tua cugina? Minchia raga Scusatemi Allora Grazie Azmal Per la sabina Una sab in meno Una maratona 36 ore Quindi un bacione Guarda qua Io Tatino Fuse Gamer E Justice E altra gente Che voi Probabilmente Non conoscete più Eh Fede Marconi È bevente Però Vorrei dire Sì Era Correva Il 2016 2016 Ragazzi Questo post del 2016 La prima volta In cui mi hanno Riconosciuto Seriamente A Romics E sotto C'è il commento Di Sespo Perché facevamo I video insieme Ai tempi Nel 2016 La raga Che ridere Ora vi racconto Una storia Prima di Sespo Prima faceva Sespo No Lo youtuber TikToker Non so ora Come si definisce Prima Lui faceva gaming E E mi disse Ma Cioè Stavo parlando Di robe E mi fa Che praticamente Lui Voleva iniziare A fare i vlog Perché pensava Che Spingevano di più I vlog Che poteva fare Più numeri E io gli dissi Non ascoltate I miei consigli E io gli dissi Ma non fare Vlog Fai quello Che ti piace Perché la community Se ne accorge Se fai qualcosa Che non ti piace Questo Ma da quanti anni sei sul web Amo Troppi Sono sul web da veramente tanti anni Veramente tanti anni Dieci anni effettivamente Attiva attiva dieci anni No in realtà sei Dai faccio una cosa poi stacchiamo Allora vi faccio vedere Dove posso mettere questa cosa? Eccolo Allora il mio primo video È 11 dicembre 2015 Quando iniziò a pubblicare seriamente Vabbè Oddio vediamo sto video E si parte anche oggi Bellissimo con un deathmatch a squadre Qui su Black Ops 3 La mappa è bridge E niente ok Gli anni bellissimi Prima che parte Yes Allora siamo tutti senza prestigio Tranne Tranne Sono andati giù Tranne questi due che sono di primo prestigio Ma a noi va benissimo Ma a noi va benissimo Ce li ho accorto in squadra Li arerò male Molto male E sono tutti italiani Era una pippa Non so perché sto parlando così Però mi diverto Allora Abbiamo i P.E. I punti esperienze dell'arma doppi Perché? L'ultimo weekend ci sono stati i punti Esperienze doppi in generale Quindi si rancavamo là Perché mi tira i punti Guardate quanto laggavo raga Perché qui avevo appena iniziato a giocare da PC Avevo appena iniziato a giocare da PC Dopo anni di play E quindi ero veramente scarsissima Scarsa come poche cose al mondo Cioè non sapevo proprio muovermi Cioè stavo imparando ad utilizzare Stavo imparando ad usare il computer Oh ragazzi Oh ragazzi Oh ragazzi Mentre poi vabbè ho iniziato con Questo è Dov'è? Questo è Ecco questo è stato il mio primo video con la facecam Si può vedere questo? Se vuoi la facecam? Hai tolto la statorce introduzione? Cattivo No? Ok Questo è il mio primo video con la facecam Era una testa fluttuante Me lo ricordo benissimo La ragazza ha morto di infarto Stava giocando ai videogame Madonna Ciao Ciao No Io non entro là dentro Io non entro là dentro Non mi importa Ciao Questo era 8 anni fa 9 gennaio 2016 Oh qua avevo fatto un upgrade Ma bello a tutti ragazzi Bentorni in questo video Oggi Oh vincere Intravevo Oggi siamo qui Con una nuova tipologia di video Non è vero È sempre un gameplay Però Siamo su Slender È un gioco horror Tutti non lo sapesse Guarda che è editing però Allora ragazzi Potevi mettere due luci Avevo una luce raga Ma pure Pure che cazzo Mi ero scordata Guarda che è editing piuttosto Quindi si vede uno sfondo nero E la webcam a lato Ci sta un tizio Un tizio Vestito in giacca e cravatta Questa era alto editing Pure troppo alto per i miei busti No raga Io Questa cosa era alto editing per me Questa era alto editing Sì avevo 15 anni Vabbè che ora a 15 anni fanno de tutto Però No altro porto Madonna Madonna Alto editing per me questa cosa Assolutamente No però in realtà La cosa che vi voglio far vedere Comunque io ho fatto Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto video Nono video Raduno Vabbè manca a far così comunque Eh la felpa greve dovrei ridropparla È vero È una bella felpa Dai magari mettiamo un sub goal Più avanti I miei primi video però sono del 2011 raga Il mio primo video è il più bel gol al mondo su FIFA 11 Quando il portiere della Roma era Julio Sergio 27 Cioè guardate il cazzo di video raga con le mie medaglie De calcio È atroce questa cosa Che gol Aspetta ora mi impanico Per far vedere Eccola Bel gol Bel gol Va così avanti all'infinito Atroce Atroce veramente Atroce E Questo video è stato caricato da un cellulare Android Poi abbiamo Trucchi di FIFA 11 e la bicicletta Una bicicletta fatta nel portiere della Roma Curiousergio numero 27 mitico Con la musica stock Eh avevo 10 anni Mitico Julio Sergio 27 Poi No minchia Guarda dove mi torna Ah no Raga no Questo video Questo video è il video più cringe Che abbia mai fatto in tutta la mia vita Infatti non ci reagirò oggi Ecco questo è Guida spericolata GTA San Andreas Il video che ogni tanto menziono Perché fa spezzare Guida spericolata GTA San Andreas Perché eravamo io con un mio amico E ci si vede Nel riflesso Cioè è folle questa cosa È folle Cioè ora questo è il mio lavoro raga Mi fa un po' emozionare Deve essere onesta Deve essere onesta Mi fa un po' emozionare questa cosa Però Bello bello Bei tempi Poi in realtà se scorro su ci sono gli altri vlog Eccetera Madonna dei zii Quanto tempo che ho passato Per montare questo video raga Ma però tutti ragazzi Per entrare in questo video Oggi siamo qui L'ho montato per giorni e giorni e giorni Ma veramente Per giorni e giorni questo video Mi sono impegnata tantissimo Porta troia Veramente raga In de mare Oh yeah Mettiamoci il cappellino Metto fashion Ora lo vediamo ed è una stronzata Ovviamente Però per me i tempi Era una roba folle Di editing Del gas Esatto ragazzi Fantas Lol Abbiamo pure un fucile Possiamo velocizzarti Senza punizioni però Faccio meno della risa Ok si possiamo andare Qua abbiamo un Un cosa Ho arrivato a un punto In cui c'è dell'editing Passport polizia Questo per me era grande editing Ok Raga Oh Questa cosa Minchia che ricordi Che ho di questa cosa precisa Ok L'impegno Con Sony Vegas L'impegno per fare questa cosa E una maglietta Olio cuore Divertente Lo simpatico Olio picchiare la gente Cioè posso picchiare la gente ora Cioè raga questa cosa qui Ora lo so che per voi Questa è una minchiata Però i sottotitoli così Io voglio picchiare la gente ora Io voglio picchiare la gente Ora sono normali Nel 2016 Ero una pioniera Di questo editing Vabbè dai vabbè Comunque Il timing a mano Vabbè Che atrocità Veramente Che atrocità Però Ottima gavetta Ottima gavetta Vabbè ragazzi Comunque detto tutto questo Oggi ci siamo fatti veramente Una chiacchierata Ma di quelle importanti Sei ora un quarto di live Cazzo Ehm Quindi Detto questo ragazzi Io direi No non le rimetterò mai pubblici Io direi che ci possiamo salutare Non sai che fare ora Puoi vedere le vecchie live se vuoi Ce ne sono tante Le clip pure Quello che ti pare I miei video Ci sono tante cose che puoi fare Dove ci sto anche io Comunque ragazzi Noi ci vediamo domani Domani facciamo la live Dalle 19 Alle 21 Mi raccomando Dalle 19 Alle 21 La live Sul nostro canale Mio canale Poi vado A raidare Joe E iniziamo il Il J Banda Assieme a lui Quindi ragazzi No non vi vengo a trovare su discord Dopo 6 ore e un quarto di live Mi merito una grande nanna Ma me la merito proprio Me li merito proprio Quindi niente ragazzi Vi mando un bacione Un grande bacio Grazie mille Per essere stati con me Fino ad ora Raga è folle Che siete ancora così tanti A quest'ora Quindi grazie mille Grazie mille Prego per la compagnia Grazie mille a voi Per esserci stati Mentre vi faccio la compagnia Ci vediamo domani Alle 19 Nel caso vi aggiorno di tutto Su Instagram Telegram E c'è tutte le solite robe Un bacione pupi Buonanotte Anzi Fammi vedere chi c'è in live E mai che facciamo un raidino a qualcuno Twitch Chi c'è in live Con la mattanculo Deco che esci Non mi arredacco che esci Andiamo a dar un bacetto a Kokeshi Così vi divertite un pochetto Sta a fare GTRP Magari lei funziona sicuramente meglio di me Bella Partecipate al raid Mi raccomando Dai dai un po' di più 80 80 Almeno 80 Se non vi esce il raid Riaggiornate la pagina Sempre le solite cose Ormai le dovreste sapere Mi raccomando Dai due persone Tre ora Che uscite Dovreste aggiungervi Non funziona Grazie a tutti